Buon giovedì 21 gennaio. Oggi come tutti i giovedì ci sarà la lezione della scuola permanente, scuola primaria l'abbiamo chiamata perché cerca di andare alle radici del nostro percorso di conoscenza che non ha limiti di tempo se no la fine del percorso di ciascuno di noi su questa terra. Udolin affermava molto spesso che quando tutto è chiaro tutto è morto, nel senso che la dimensione della vita è nell'oscurità da penetrare, da portare alla luce. Finché siamo vivi siamo in qualche modo, sollecitate un'infinita quantità di domande, qualunque sia il grado della nostra acculturazione. Molto spesso se riusciamo a raggiungere dei livelli di conoscenza formali e riconosciuti pensiamo di aver compreso tutto, cioè tutto è chiaro. Se la conoscenza arriva a questo livello siamo destinati a vivere il resto dell'esistenza nella cecità e nell'oscurità senza più cercare la luce. Siamo schiavi della nostra stessa conoscenza. Ho voluto fare questa premessa questa mattina perché la frase sulla quale noi stiamo in qualche maniera riflettendo è quella di Simone Weil sull'impersonale, il sacro, su questa sottolineatura quanto sia la dimensione personale, ma tanto peggio quella collettiva, ci impedisce quel atto fondamentale per la conoscenza che è la ascendenza, cioè andare oltre noi stessi. Siamo spesso tentati dalla fissità. Uno dei temi che abbiamo trattato nel seminario di domenica scorsa e in questi giorni, lo faremo anche fino alla fine del mese, è il tema del sacro e della famiglia. Ce l'abbiamo identificato nella famiglia, ne faremo naturalmente riferimento nel corso di tutto quest'anno, visto che i club sono un approccio familiare, non un approccio individuale, un approccio relazionale, perché la centralità che definisce lo spartiacque tra egocentrismo e apertura ecologica è proprio la dimensione della relazione. Nell'egocentrismo non c'è alcun spazio per la relazione, sono come ingombro, come a volte sia anche come offerta di aiuto, ma è un aiuto rispetto al quale non mi faccio per niente coinvolgere. Anzi, quel sofferente, quella persona deviante conferma la mia normalità, diventa lo specchio che riflette semplicemente il mio delirio di ogni potenza e di normalità, anziché vedere nell'altro. Qualcosa che mi riguarda vedo semplicemente me stesso, mi faccio riflettere, non vedo più l'altro come una assoluta diversità, con la quale stabilisco una relazione d'amore, proprio in questa comunione di diversi che affrontano la fragilità. È un passaggio difficilissimo. In questi giorni mi è capitato di sentire sempre più frequentemente i strappi che attraversano l'esistenza umana di chi soffre profondamente, tra un invito all'ecologia e l'invito opposto, molto più suggestivo naturalmente, che è quello di affidarsi meccanicamente a mani esperte, a cercare una specie di santuario della guarigione, una guarigione che naturalmente si avvale della potenza della tecnica, della capacità di isolare la persona, rimetterla a posto, ripararla. Certo, a volte accade che la persona distanziata dal mondo e sollecitata meccanicamente da psicofarmaci possa sembrare effettivamente guarita della sua condizione. Ma in questo modo abbiamo spento una parola che vale per tutti, una domanda, non l'abbiamo assolutamente elaborata, l'abbiamo silenziata e abbiamo convinto quella persona che forse non vale la pena di percorrere un percorso di crescita e maturazione trasformativo. Abbiamo convinta semplicemente che sia contenti di quello che ha, che non si apre più alla dimensione dell'attraversamento dell'oscurità e abbiamo acceso semplicemente una lampadina che gli permette di sostare la dov'è, senza eccessi né verso la tristezza né verso l'entusiasmo. Ecco questa visione così suggestiva carica di egocentrismo quasi ideologizzato spesso lo ritroviamo anche dentro i club dove invito a un'azione concreta di partecipazione, di condivisione appunto familiare, viene sentita con difficoltà, viene rifiutata e infastidisce naturalmente che questo avvenga in un contesto che si autodefinisce ecologico e cerca di esserlo se non altro. Quindi per cercare di togliere questo ingombro si va al club comportandosi in maniera completamente opposta a come ci si dovrebbe comportare qualora uno accetti quella visione. si va da soli, ma si va radicalmente da soli nel senso che non si coinvolge nessuno di chi sta intorno, certo ognuno è libero di venire al club, ma naturalmente può anche stare a casa. Questo non significa che chi ci va non vada a casa e poi solleciti, anche una crisi se necessario, una crisi trasformativa. Il club non ha nessuna intenzione seduttiva, non vuole propaganda, non rivendica a se stesso una capacità di guarigione assoluta e definitiva, di ripristino di condizioni meccaniche perfette e funzionali alla normalità sacralizzata. E la normalità sacralizzata è proprio quella dimensione collettiva, ne abbiamo conosciuto le tragedie nel novecento, ma ne conosciamo anche di attuali, che identifica il sacro con il conformismo alla dimensione collettivo, all'ideologia dominante. Qual è dunque l'ideologia dominante del tempo corrente, che in qualche modo mette insieme individualità irriducibili, egocentriche, in un disegno globale di auto-assoggettamento, di conformismo. Anche quando ci si dichiara rivoluzionari, quanti rivoluzionari degli anni sessanta oggi manifestano con molta evidenza la loro tendenza conformista. e infatti ricordano molto spesso la loro giovinezza trasgressiva, il loro desiderio allora di giustizia, ma che naturalmente oggi hanno abbandonato, abdicando a quella dimensione culturale che chiedeva giustizia, che chiedeva una attenzione nei confronti del pianeta, nel rispetto della diversità, non era la globalizzazione, non era l'idea di conformismo a un comportamento definito normale, ma in realtà semplicemente conformista, che obbediva ed obbedisce a qualcosa che non ha nulla a che vedere con il sacro, cioè all'appropriazione della sicurezza dentro alla dimensione collettiva. Più sicuri ma meno liberi. Questa è la condizione umana che oggi, ancora una volta nella storia dell'umanità, ci troviamo a vivere. Più sicuri ma meno liberi. La libertà ha un prezzo molto elevato, perché ci lascia inevitabilmente nell'insicurezza e nella incertezza. Ma è proprio quella insicurezza e quella incertezza che apre lo spirito al non ridurre la nostra esistenza a noi stessi. Ci sollecita a trascendere, a non cercare un'oasi sicura nella quale fermarci, perché l'attraversata del deserto è dura. La possiamo evitare, naturalmente. Se ci confiniamo in un'oasi, che poi la potenza della tecnica della scienza ci garantisce che è capace di farci in qualche maniera sopravvivere, senza fatica. Ma senza fatica non si va da nessuna parte. Noi rivendichiamo l'appartenenza a una civiltà che ha radici antiche, greco-romane, cristiane, questa parte del mondo, almeno altri, hanno altre radici. Ma ognuna di queste radici converge nella dimensione del sacro, del mistero. E più ci avviciniamo, più le diversità trovano delle consonanze, dei punti in comune. Vedete, l'ho ricordato questi giorni. Il mondo giovanile ci ha allertato sulla questione del pianeta, delle profonde ferite fatte a nostra madre terra. Ebbene noi che cosa immaginiamo? immaginiamo di poter continuare a vivere, come abbiamo sempre vissuto negli ultimi decenni, quelle condizioni che hanno accelerato il processo di degrado dell'ambiente, affidando a mani esperte, alla geo-ingegneria, alla potenza della tecnica, la capacità di cicatrizzare quelle ferite, senza modificare in nessun modo il nostro modo di essere nel mondo e nelle relazioni. Questo è il grande sogno che impedisce il riconoscimento della relazione inevitabile che intercorre tra noi e gli altri viventi, tra noi e gli altri esseri umani, invitandoci a percorrere la via della sobrietà, ad accettare che quelle ferite le ha prodotte ciascuno di noi e non ci sarà tecnica capace di lenire quella sofferenza, di accelerare il processo di estinzione della vita su questo pianeta, perché questo è quello che è realmente in gioco, non è in gioco solo l'estinzione della nostra specie, questo a un certo punto si estinguerà, ma noi siamo qui invitati a onorare la vita che ci trascende, guardate che il sacro in realtà è la vita, che non è qualcosa che ci riguarda singolarmente, ma riguarda tutti. Se noi pensiamo alla dimensione collettiva di affidare allo Stato, alle istituzioni, ai sacri valori antichi, la vita, facciamo un grosso errore, perché la vita va oltre le condizioni storiche date e l'ammonimento che ci viene dal sintomo di una terra che soffre, ma attenzione, è pronta a reagire, anche contro di noi, perché questo è nell'ordine delle cose. La vita ha bisogno di evolvere e noi siamo chiamati a questo, non abbiamo ascoltato. Un grido che non è meramente ambientalista, è antropologico. E riflettiamo questa nostra indisponibilità nel modo in cui affrontiamo le sofferenze che mettono in evidenza le contraddizioni e anche le ragioni di tante sofferenze che anziché trovare la via del senso di ciò che accade, cercano una riparazione, effimera per quanto duratura, può durare tutta la vita. Guardate la metafora che, non so, la tossicodipendenza è come diabete, per cui basta trovare il rimedio, o l'alcolismo come diabete, quindi basta trovare il rimedio per tenere lontano la persona dagli zuccheri, nel caso del diabete, dalle droghe, dall'alcol, l'alcolista attraverso la creazione di presidi farmacologici che creino barriere, è esattamente il modo di pensare di chi pensa che basta semplicemente se il mare cresce alzare le barriere. Può usare l'esempio dell'Olanda, come vivere in un mare che sembra prendere terreno sulla terra, ebbene, ci penserà la tecnica, la geo-ingegneria che alzerà barriere, dighe. Per un po' di tempo, naturalmente, potremmo stare tranquilli, non saremo sommersi, ma quello che daremo alle generazioni future sarà un progressivo degrado che mette in discussione la vita stessa. Riportate questa metafora nella dimensione ecologica della famiglia. Ed è quello che dovremmo fare nel corso di questo anno per rivisitare radicalmente il nostro atteggiamento di fronte alle sofferenze umane. Di natura psichica, di natura comportamentale, che rispondono a matrici relazionali precise che noi apprendiamo in modo primario attraverso la nostra relazione familiare, che non è eterna, è instabile, evolutiva ed effimera. E per un certo periodo di tempo persiste. In quello spazio di tempo siamo chiamati a una conversione autentica, a una visione ecologica che non cerca soluzioni temporanee per quante lunghe possano essere, ma cerca semplicemente di riprendere un cammino di crescita e maturazione anche e nella sofferenza. Ma questo è possibile soltanto se riusciamo a coltivare la dimensione dell'amore. Buona giornata a tutti.